Ciao a tutti e bentornati in un altro video di Passi Mincam Italia, oggi andiamo a vedere come attivare il tag Reload ZX. Quindi come vedete abbiamo ricevuto i nostri due tag e la prima cosa da fare è andare a scannerizzare il QR code per avere le istruzioni. Apriamo la fotocamera e come vedete come selezioniamo il QR code avremo un link da cliccare. Clicchiamo sul link e avremo un file da scaricare, un file pdf. Salviamo il file, apriamo il file e abbiamo le istruzioni. Ora prima di tutto, prima di cominciare con queste istruzioni c'è un altro procedimento da fare se non avete ancora attivato il profilo rzx.bio. Dobbiamo aprire un browser, andare su rzx.bio, cliccare su tre trattini, cliccare su sign in, in basso potete cambiare la lingua, la mettiamo in italiano, quindi tre trattini, entra. Qui clicchiamo su password dimenticata e andiamo ad inserire l'email del nostro profilo Reload ZX. Inseriamo il captcha e clicchiamo su inviami un link di recupero. Attendiamo l'arrivo della mail, ecco la mail, controlliamo sempre lo spam, clicchiamo su reimposta password e inseriamo la nuova password. Clicchiamo su imposta password e siamo dentro. Quindi procediamo con le istruzioni, assicurati di aver attivato NFC sul tuo smartphone dal menu impostazioni, connessioni e abilità NFC, quindi andiamo alla home, abbassiamo una tendina e andiamo a cercare il tasto NFC. Come vedete qui in alto è già attivo, questo qui. Ok? Quindi NFC è attivo. Il secondo passo è necessario che il telefono sia attivo, schermo acceso, non in stand by. Il terzo passo è fai tag sul bollino ricevuto. Ora andiamo ad appoggiare il telefono sul bollino, sul tag. Come vedete mi sta chiedendo di completare l'azione con un browser. Io userò Chrome ma potete usare un qualsiasi browser. Quindi usiamo Chrome. Il quarto step è copia il codice alfa numerico che trovi nella barra di ricerca in alto. Quindi andiamo a copiare questo codice, le ultime cinque cifre, copiamo. Quinto step. Accedi al tuo rzx.bio dalla tua dashboard, clicca create link, crea collegamento, urla abbreviato. Quindi andiamo su rzx.bio, tre trattini dashboard, clicchiamo su crea collegamento, urla abbreviato e incolliamo il codice copiato. Dopodiché abbiamo incolle il codice alfa numerico, l'abbiamo già fatto, copia il tuo long url. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare su reloadzx.net, andiamo su reloadzx.net, facciamo il login, andiamo nella mia dashboard e in basso abbiamo il link del bigliettino da visita. Copiamo il bigliettino da visita, ritorniamo su rzx.bio e lo incolliamo nell'url. Clicchiamo su abbrevia l'url, usciamo di qui, ora proviamo a fare di nuovo tag. Ci dirà di nuovo di scegliere il browser, voi potete cliccare su sempre così non vi apparirà più questa icona e come vedete abbiamo il nostro bigliettino da visita, linkato con il tag. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato di aiuto mettete un like, iscrivetevi al canale e se avete bisogno di assistenza potete iscrivervi al gruppo telegram che trovate in basso in descrizione. Ciao, alla prossima! Se hai bisogno di supporto se vuoi entrare a far parte di uno di questi progetti, ti basterà entrare nel nostro canale telegram, trovi il link nella descrizione del video e ti ricordo che nel canale youtube nella sezione playlist troverai la lista dei business che stiamo seguendo. Grazie per aver visualizzato questo video e se sei iscritto al canale grazie per far parte di questa community.